Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video puccioso insieme alla nostra mascotta del canale Gerry, il mio cagnolino bello barboncioso oggi siamo qui in una speciale per riapertura della canalizzazione canalosa spiega il motivo per cui è quella di un giocortale giusto, non, ragazzi, questi canali è un caricatore perché mio cugino, ossia il suo fratello praticamente, fino a mo' c'è un smitragliato di proiettili nerf e quindi adesso va giandoci male e io ragazzi, vedete che cazzo c'ho, aspetta c'è un missile atomico nucleare un missile atomico nucleare che serve a devastare la sua esistenza l'abbiamo testato l'ho testato prima sulla sua testa poi l'ha testato sulla mia testa allora ragazzi, in questo vlog specialmente specialoso andiamo a fare un'intervista a Gerry quindi ragazzi, senza indugio con il segugio andiamo a fare... si, spunti dalla turista andiamo a fare l'intervista ok, questa parte la taglio, non applauso poi ci facciamo che tipo gli facciamo le domande poi cioè gli facciamo le domande a Gerry poi fermo l'immagine metto l'audio in cui faccio una voce strana e rispondo tipo non lo so, quanti anni hai? io chi io devo faccio il fermo immagine insomma ok 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 e ragazzi, quindi ci troviamo qui sull'intervista con Gerry la mascotte del canale infatti questo diciamo che è uno speciale di riapertura insieme a tendri 60t che è il mio cosino e buon salve quindi, allora cominciamo subito con l'intervista io sono il partner cioè io sono il... 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 no, com'è che si chiama? il... 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 no, 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 l'intervistatore quello lì il manager, ecco sono il manager della nostra star della puntata allora che domande vuole fare questa mia giornalista? ehm... ti piace essere creatata dal bistio? eh? ti piace che ti metti sul bistio? ho fatto il bistio? la prossima domanda ehm... 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 quanti anni hai? ti piace la pizza? il tuo nome è Jerry O'Kiria? sei un maschio? non terminato ehm... 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 hai notato il sesso? pure ma è che si dicevo che l'intervista si può ancora vedere qui perché stiamo andando su domande un po' troppo personali per il mio... aspetta, aspetta cliente... anche se non è che cazzo... sì... no... perché abbassi il ventilatore? sì... 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 puoi parlare magari dei giochi che introdurrò anche la nuova cartola del canale? sì... rainbow ok ok bene quindi dicevamo guarda lì che così diventi famoso guarda lì che diventi famoso che sei già puzzolente tu ok cioè lui che sta cecchinando la porta per evitare che entra Carlo che ci distribuerà sicuramente quindi allora dicevamo l'apertura del... con l'apertura del canale arriveranno tanti nuovi video video soprattutto gaming e alcuni vlog in compagnia sempre o ehm... di xd, carlo xd oppure di dentro del generale 60t oppure a volte li faremo anche soltanto con il mio canale lì no? perché sarà abbastanza divertente quindi ragazzi ovviamente prima di cominciare a parlarvi dei... dei giochi che farò questi sarebbero i giochi che vorrei fare... mi stai facendo venire mal di male che stai facendo sotto il sopra ma silenzio allora dicevamo i giochi che volevo introdurre cioè non so se li introdurrò sicuramente però volevo annunciarvi che i giochi che volevo fare... hai spaventato... hai... ha preso la pistola hai spaventato Gerry? ha preso la pistola quale? quella blu? si accendi il ventilatore a uno allora la... i giochi che volevo introdurre e vi volevo dire sono Remus Exige che in questo periodo... ma va in compagnia anche con me già in compagnia sua e di xd carlo xd allora poi dicevamo Remus Exige perché sta andando un bottissimo perché sta esplodendo in questo periodo e quindi volevo portarlo soprattutto per la stagione Ert Ert si mi faccio un po' poco ok aspetta ok oddio oddio ok si va bene dicevo quindi dai Franci basta allora dicevo oltre a perché ti sei leccato il nese? no allora oltre a Remus Exige porterò Paintball cioè insieme sempre a lui e xd carlo xd poi ovviamente sempre in minecraft perché minecraft ormai è diventata la mia vita poi una non so se introdurre anche Mr. President che ho un gioco abbastanza vecchio cioè l'ho già fatto abbastanza vecchiotto ma volevo fare una serie in cui cercavo di finire i livelli del wrestling nel modo più assurdo e impossibile possibile quindi spero proprio che questo tipo di serie su Mr. President vi piaccia e poi anche in Superattu volevo portarvi una serie abbastanza particolare dove faremo soltanto le modalità quella tempo illimitato ovvero andremo avanti a sconfiggere i nemici fino a quando non finirà il tempo ho un po' di luce quindi ragazzi e ragazze direi che il video per il momento è arrivato a metà ma che cazzo stai facendo direi che il video è arrivato no adesso spegnere direi che il video sia arrivato più o meno a metà quindi andrei a parlare del secondo argomento chiudiamo lì e sono a te la parli ma c'è il cadetero è trasferente al computer no sono sul drive e dopo lo ripeto ok posso fare anche così io allora cosa che volevo fare un po' stupida l'idea che avevo era aspetta la fotocamera è qui quindi se io metto il dito qui non si vede quindi la mia idea era quella di mettere dello scotch qui attaccarmelo qui al petto e andare a dare la caccia a Carlo mentre faccio il video ottimo però non l'ha detto adesso c'è fai due video eh perchè due video? ah uno anche faccio il video al vlog no vabbè sua madre è l'ercia ma proprio l'ercia quindi ragazzi adesso ci sarà la caccia a Carlo ok il video vi lasceremo in descrizione ecco questo qui in Toria era la seconda cosa del WLOG bene ragazzi quindi ci vediamo al prossimo videuzzo videoso della caccia a Carlo ma con Boston caccia all'uomo se volete andatelo a vedere al cinema perchè è figo ragazzi quindi noi andremo ad andare alla caccia a Carlo con questo io farò solo da cameraman forse no ok farò solo da cameraman però diciamo che ci vediamo subito quindi raga spolliciate più non posso perchè se spolliciate così così no così così è quello da ebety così spolliciate più non posso perchè intanto già ti vuole uscire dalla camera farlo uscire spolliciate più non posso perchè se spolliciate ok basta basta andate vedrete la caccia all'uomo ovvero la caccia a xd car xd ma dai dai fai un'altra camera fai un'altra camera quando va davanti e questa no accofammi metti la al contatto